Salve, sono Gonario Nonne, calzolaio di Casteggio. Ho cominciato l'attività a settembre del 2016. Comunque avevo un'esperienza nel settore calzaturier, ero già da più di 30 anni e facevo il modellista. L'azienda per cui lavoravo prima, sono stati grossi problemi e hanno dovuto licenziare. Ma comunque non era questo il motivo che mi ha spinto ad aprire, questo l'avevo già in mente da tempo. La parte tecnica era abbastanza sicura, dico sicura al 100%, però ero abbastanza tranquillo, diciamo, avendo avuto un'esperienza tecnica di trentennale, però la parte amministrativa sinceramente quella ci vuole, assolutamente, non deve mancare. La Camera di Commercio di Pavia abbiamo fatto questo corso che, devo dire, è stato veramente eccellente. Ci ha indirizzato bene, siamo riusciti ad organizzarsi in modo consono all'attività e a tutto il resto, sia dalla parte commerciale che dalla parte amministrativa. e fiscale anche, cosa molto importante nell'azienda. Questo è tutto, vi saluto, a presto.